Professore Bobbio, se la democrazia fosse inflazionata nella realtà così come lo è come concetto, probabilmente viveremmo in un mondo di uguaglianza universale, ma invece non è così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell'Atene di Pericle, dei Soviet di Lenin, c'è la democrazia liberale, quella socialista, c'è la democrazia cristiana. Ecco, prima di addentrarci in questa discussione sulla democrazia, possiamo dare una definizione minima ma precisa di questo termine? Ma io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima di democrazia, ma sia necessaria. Perché, se vogliamo metterci d'accordo quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici, sui quali possiamo essere tutti d'accordo. Ora, io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia, bisogna dare una definizione puramente e semplicemente procedurale. Vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Ora, si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive. Prima, tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa, dopo una libera discussione, a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia e dove democrazia non c'è. Ecco, quindi, sia che si tratti di decidere di un condominio, che si tratti di decidere di una legge dello Stato... Ha detto benissimo, un'associazione. Qualsiasi associazione, qualsiasi associazione generalmente stabilisce quali sono le regole in base alle quali si pina le decisioni che poi valgono. Anche se le decisioni vengono prese da pochi, da alcune, anche da uno solo. L'importante è che quella decisione venga presa in base a quelle regole. Ecco, quando lei dice queste cose mi viene in mente che se effettivamente nel mondo esistono alcuni, forse neanche troppi, stati democratici, all'interno anche di questi stati democratici, penso a tutti gli apparati della produzione, agli apparati dei servizi, a molte delle istituzioni, dalle scuole, alle caserme, eccetera. Ecco, io non ci ritrovo molte delle due... Lei ha effettivamente ragione, qui stiamo parlando di democrazia politica. Difatti io ho considerato come una delle promesse non mantenute della democrazia proprio il fatto che la democrazia politica non si è stesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale. A rigore, una società democratica dovrebbe essere democratica, cioè dovrebbe avere queste regole, funzionamento della democrazia, nella maggior parte dei centri di potere. Questo in realtà, nella maggior parte della democrazia non è venuto. Qual è poi il centro di potere in cui dovrebbe avvenire questa estensione delle regole democratiche dovrebbe essere la fabbrica. Nella fabbrica, in realtà, non esiste all'interno della fabbrica un regime democratico. Vale a dire, le decisioni vengono prese da una parte sola, dall'altra parte c'è la possibilità di un certo controllo delle decisioni, ma le decisioni non vengono prese da tutte le parti che sono in gioco in quel centro di potere. Quindi, diciamo, lei pensa che sia auspicabile questa autodeterminazione, diciamo, della propria vita produttiva? Ma io credo che questo sia l'ideale limite della democrazia. A cui tende? Certo, è l'ideale limite della democrazia, però nello stesso tempo osservo che ci sono molti luoghi in cui le regole della democrazia sono state istituite, ma non vengono osservate. Per esempio? Per esempio nei partiti, all'interno dei partiti. I partiti sono associazioni che hanno delle regole democratiche per le decisioni collettive nell'ambito dei partiti, sappiamo benissimo che la democrazia dei partiti è molto scarsa, molto limitata, direi la stessa cosa per i sindacati. Abbiamo parlato di democrazia e vorrei cercare di cogliere quali sono i nesti fra democrazia e liberalismo. Probabilmente dopo la rivoluzione d'ottobre il mondo occidentale, essendo stato distinto dal mondo dell'est, dal mondo dei soviet, dal mondo comunista, si è fatto probabilmente un po' di confusione ad occidente, cioè tutte le ideologie, più o meno che non fossero quelle comuniste, sono state messe un po' tutte insieme. Eppure noi sappiamo, ad esempio, che liberalismo e democrazia non hanno avuto sempre un buon rapporto nei secoli. Ecco, possiamo provare a stabilire queste differenze storiche e ideali fra il liberalismo e la democrazia? Ma storicamente liberalismo e democrazia sono stati spesso controposti. Sono stati spesso controposti quando però di democrazia non si dava questa definizione che ho dato io, si dava una definizione non formale o procedurale di democrazia, ma si dava una definizione, come si dice, contenutistica, sostanziale. Per democrazia si intendeva una società egualitaria o perlomeno più egualitaria delle società precedenti. Certo, se si intende per democrazia una società al massimo egualitaria, c'è un contrasto fra liberalismo e democrazia. Però se noi partiamo dalla definizione procedurale di democrazia, ci rendiamo conto che la democrazia, quella che oggi noi intendiamo per democrazia, non è altro che la naturale prosecuzione del liberalismo, naturale conseguenza del liberalismo. Perché il liberalismo ha fermato alcuni diritti fondamentali, che erano i diritti di libertà e i cosiddetti diritti civili. Il diritto di libertà di associazione, di riunione, di stampa, di opinione, di religione, eccetera. Con la democrazia si è fermato un altro diritto volontario, il diritto politico, quello che si chiama diritto politico, vuol dire il diritto di prendere parte alle decisioni collettive. All'inizio c'erano degli stati liberali che non erano democratici, perché prendevano parte alle decisioni collettive soltanto alcuni, generalmente con gli ambienti c'erano delle limitazioni di voto molto grave, per cui votavano una piccola parte dei cittadini, 2-3% dei cittadini. Poi via via è avvenuta l'estensione del soffragio, oggi negli stati che noi chiamiamo democratici c'è il soffragio universale, generalmente il soffragio universale è maschile e mi devo dire che c'è stata l'estensione del diritto politico a tutti. Questa estensione non è stata altro che una conseguenza della estensione di alcuni diritti fondamentali che erano stati richiesti dal liberalismo. Da questo punto di vista dico che se noi intendiamo la democrazia dal punto di vista procedurale o formale, come intendo io, la democrazia attuale è la prosecuzione del liberalismo, non c'è contrasto. Questo vuol dire che allora il problema della democrazia sostanziale è stato in qualche modo delegato al socialismo? Sì, certamente, l'affermazione della democrazia sostanziale è stata fatta, inizialmente, dai democratici radicali, tant'è vero che ho detto che all'inizio per democrazia si intendeva una società più egualitaria, però non c'è dubbio che la democrazia sostanziale è uno dei grandi temi del socialismo. Si può definire il socialismo come quella corrente di pensiero e di idee che ha cercato di riempire la democrazia, questa scatola vuota, veramente formale di democrazia, di certi contenuti che sono l'uguaglianza non soltanto giuridica, ma anche di fatto, come si dice, sociale ed economica. Credo che oggi una certa tendenza verso un maggiore egualitarismo, vuole dire una maggiore ugualianza di tutti in molte cose, non dico in tutte, ci sia. Questo è una delle caratteristiche delle società contemporanee ed è indubbiamente un modo per dare sviluppo, per dare maggiore sostanza, maggiore contenuto ai regimi democratici. Dico che uno dei criteri in base ai quali si debbano distribuire i beni è anche il merito, non dico che sia sempre soltanto il merito, ma anche il merito. Ci sono certamente delle situazioni in cui non si può applicare altro che il principio del merito e della distribuzione secondo il merito. Per esempio, qual è? Nella scuola. Nella scuola lei capisce che non ha senso dare un voto uguale a tutti, non avrebbe nessun senso che scuola sarebbe. Si dà secondo il merito. Capisce? Mentre di fronte a coloro che sono emarginati dalla società, il criterio non è certo quello del merito, ma quello del bisogno. Ci dà secondo il bisogno. Non si sta a raggiudicare se quel povero vecchio ha più merito di quell'altro. Si tratta di dare secondo il bisogno, cioè di dare di più a chi ha bisogno. Questi sono i due criteri fondamentali, il merito e il bisogno. del resto lo stesso Marx, famosa critica del programma di Giorgio, diceva che ciascuno ha la capacità a ciascuno secondo il bisogno. Sì, sì, ma credo che siano stati solo così qualche utopista socialista dell'Ottocento a professare l'egualitarismo assoluto. Io quando parlo di egualitarismo assoluto mi riferisco soprattutto ai cosiddetti egualitari, ai buonarroti, al congiore degli uguali. Io volevo fare un'obiezione a quello che lei mi diceva poco fa a proposito del rapporto fra la sinistra socialista, diciamo di matrice socialista e lo Stato. Io ad esempio non credo che nei socialisti dell'Ottocento e nello stesso Marx ci fosse una concezione dello Stato sostanzialmente diversa da quella, diciamo, di matrice liberale. Cioè, voglio dire, anche se per motivi diversi, io noto un certo antistatalismo sia nei marxisti, diciamo, dell'Ottocento, sia nei liberali, sia negli anarchici. Cioè, voglio dire, mi sembra più una matrice comune che una contrapposizione. La collettivizzazione dei mezzi di produzione, che è uno dei punti fermi di tutto il socialismo, non soltanto del socialismo anarchico, di tutto il socialismo, cioè l'eliminazione della proprietà privata. La sostituzione della proprietà privata con la proprietà collettiva assolutamente di produzione, conduce indubbiamente a forme di monopolio dell'attività economica che non può essere di Stato che dallo Stato. Ti ho detto prima che forse, da un punto di vista così, diciamo, filosofico, c'è un'antipatia più o meno equivalente tra i liberali, gli anarchici e i marxisti nei confronti dello Stato. Non glielo chiedevo, diciamo, per aprire una disputa teorica, ma solo perché forse questa antipatia storica nei confronti dello Stato ha fatto venire meno nella nostra cultura occidentale il senso dello Stato, cioè quel senso, come dire, del dovere verso la sfera pubblica che forse ha provocato tutta una serie di degenerazioni all'interno dello Stato. Non so, è come se è la questione morale che diventa questione politica proprio perché culturalmente forse non abbiamo un profondo senso dello Stato nella nostra cultura politica. Ma, sai, io credo che l'espressione senso dello Stato in complesso sia un'espressione vaga, generica. Ci si richiama al senso dello Stato quando si riesce a trovare una spiegazione di quello che avviene. Io non credo che ci sia, non ci siano mai stati delle classi dirigenti che abbiano anteposto l'interesse collettivo all'interesse del proprio gruppo. Ora, che cos'è un interesse nazionale? Cos'è l'interesse collettivo? Cos'è il bene pubblico? Lei capisce che è estremamente difficile definirlo. In genere, coloro che comandano, coloro che hanno le leve del potere, intendono per interesse nazionale, interesse collettivo, l'interesse preeminente e prevalente del loro gruppo. Questo è sempre stato. Anche nelle nostre stelle democratiche vi sono gruppi di interesse, vi sono i partiti, vi è la maggioranza che è composta di certe partite e di esclusione di altri. Quindi quello che noi chiamiamo l'interesse nazionale, la società democratica può darsi benissimo che sia l'interesse di quel partito, di quel gruppo, di partiti, sempre meglio che l'interesse di pochi o l'interesse di uno, però non possiamo essere sicuri che questo sia veramente l'interesse nazionale. Entriamo ora più nel merito della democrazia, sempre facendo riferimento a quella... definizione formale che lei ha dato all'inizio. Ora, la democrazia è una forma di governo fondata, diciamo, grosso modo sulla rappresentanza, sostanzialmente sulla rappresentanza. Cioè ciascun cittadino ha diritto a un voto e questo voto è per così dire però ambivalente. Cioè da una parte si delega qualcuno a rappresentarci rispetto ai nostri interessi di privati cittadini, dall'altro si delega qualcuno a rappresentarci perché rappresenti la nostra nazione, rappresenti il nostro paese nel suo complesso, indipendentemente dagli interessi, diciamo, corporativi. Ora, questa ambivalenza si manifesta sempre nel voto. Ciascuno di noi, a qualunque classe o categoria o ceto appartenga, vota contemporaneamente pensando a questi due criteri. Ecco, parliamo un po' di questo dilemma, insomma, tra la rappresentanza dell'interesse e la rappresentanza politica. Oggi è molto, molto difficile distinguere queste due forme di rappresentanza. Molti rappresentanti politici, deputati, membri del Parlamento, in realtà, nonostante il divieto di mandato imperativo rappresentano degli interessi, hanno spesso un mandato vincolato, mandato vincolato dal partito, mandato tanto vincolato che se non eseguono le direttive del partito probabilmente vengono eliminati. È vero che il partito a rigore non è una corporazione, non è come i ceti di una volta, che sono degli interessi molto, molto precisi, determinati, concreti, specifici. Il partito a rigore, ogni partito dovrebbe rappresentare vari interessi, tanto è vero che si dice che la funzione dei partiti è quella di aggregare gli interessi, però in un sistema politico come quello italiano, dove ci sono tanti partiti, c'è il rischio che ognuno dei partiti diventi a poco a poco un gruppo di interessi. Abbiamo il rischio che il partito si trasformi in gruppo di interessi, allora in questo caso lei capisce benissimo che il rappresentante politico diventa, un rappresentante attraverso il partito diventa un rappresentante interessi. Avviene spesso il contrario laddove ci dovrebbe essere la rappresentanza di interessi. Mentre il Parlamento è definito attraverso la rappresentanza politica, i sindacati vengono definiti attraverso la rappresentanza degli interessi, su questo non c'è nessun dubbio, un rappresentante sindacale non deve fare interessi della Nazione, non deve fare interessi collettivi, non deve perseguire il bene comune, deve fare interessi dei lavoratori, di quei lavoratori che rappresentano, ci sono tante categorie di lavoratori, ogni categoria che ha i suoi delegati, i suoi delegati di fabbrica appunto per esempio, che sono quelli che devono fare. A rigore, siccome questa è una rappresentanza di interessi, dovrebbe essere una rappresentanza vincolata, vale dire il sindacalista che dovrebbe rappresentare la categoria, in realtà agisce spesso come se avesse un mandato libero. Ed ecco in questo caso la rappresentanza di interessi diventa una rappresentanza politica, mentre abbiamo visto che la rappresentanza politica spesso diventa una rappresentanza di interessi. No, questo... Cioè, qual è la conclusione di questo discorso? La verona è che è molto difficile la distinzione. Quella distinzione che sembrava così netta tra la rappresentanza di interessi e la rappresentanza politica all'inizio del... della storia dell'educazione rappresentativa in realtà è molto meno netta di quello che si credeva. Professore, sempre a proposito di questa ambivalenza tra la rappresentanza degli interessi particolari e la rappresentanza politica, ci troviamo, come dire, di fronte alla possibile e frequente talvolta degenerazione, diciamo, del divieto di mandato imperativo. Cioè che dei deputati vengano eletti perché, come dire, tutelino certi interessi particolari. Allora questo stato di cose, diciamo, non solo può alimentare delle forme di corruzione, non so, a un certo punto lo stesso Parlamento in questo rapporto di scambio che si viene a creare fra l'elettore l'eletto rischia di diventare una sorta di borsa della politica, possiamo dire. Ecco, possiamo parlare di questo? sì, sì, certo. Lei sa che infatti si usa ormai frequentemente l'espressione mercato politico. L'elettore dà all'eletto il voto, cioè dà un sostegno, cioè gli consente di avere una certa quota di potere. E infatti un eletto ha tanto più potere quanto più voto. Dall'altra parte, l'eletto o l'eligendo, quello che deve farsi a leggere, promette in cambio del voto alcuni beni che generalmente vengono dati attraverso le risorse pubbliche di cui l'uomo politico dispone. Può essere la pensione, possono essere una facilitazione fiscale, può essere il posto di impiegato o di bidello. O anche la leggina apposta. Qualche volta anche la leggina. E questo rapporto ha ormai un nome abbastanza noto, abbastanza comune. Si dice rapporto clientelare. Questo è un rapporto clientelare. Vuole dire, è un vero e proprio do-des, scambio. Solo che non è uno scambio economico, ma è uno scambio, diremo così, di beni che sono nel mercato politico. Questo è uno delle caratteristiche di democrazia e ritengo che sia in un certo senso inevitabile. Inizialmente la democrazia rappresentativa era nata con l'idea che la legittimazione dovesse venire attraverso l'opinione pubblica e quindi attraverso quel voto che si chiama voto di opinione. Oggi si ritiene che il voto di opinione stia diminuendo. Rispetto a quel voto che si chiama di solito voto di scambio. Proprio perché è fondato sopra questo do-des. Volevo porle una questione. Di fronte alla crisi delle ideologie che certamente c'è stato in questi ultimi dieci anni, come dire, ha preso un po' il sopravvento per converso un certo spirito di razionalizzazione della politica, cioè cerchiamo di razionalizzare lo stato di cose presenti senza troppi grilli per la testa e senza troppe fumisterie ideologiche. Però io credo che tutto questo forse ha portato ad una forma di impoverimento della politica, nel senso che è prevalso un certo navigare a vista, sono prevalse forse le politiche di piccolo cabotaggio. Non pensa che nella politica ci debba comunque, come dire, essere un dover essere, ecco, anche senza chiamarlo diciamo come ideologia, cioè guardare lontano e storicamente non soltanto al dover mani. Sì, vabbè, ci deve essere l'un e l'altro, un e l'altro. Sì, certo, certo. Il programma minimo è il programma massimo, una volta si diceva. Ecco, ma poi non esistere un programma... Lei capisce che oggi, nelle società complesse, usiamo questa parola, ci sono molti problemi che devono essere risolti di volta in volta. Io credo che oggi nessuna classe politica può fare a meno di questa politica contingente, politica della congiuntura, capisci? Ma si può procedere senza strategia. Però si pone certamente il problema degli scopi ultimi. Soprattutto i partiti di sinistra, cioè i partiti che si considerano sinistra, cioè i partiti riformatori devono avere delle meti ideali, perché è solo attraverso questo criterio delle meti ideali, che possono essere libertà, l'uguaglianza, il benessere, eccetera, lei può distinguere un provvedimento di riforma da un provvedimento non di riforma. Quali sono le ragioni perché lei dice che una legge è una legge di riforma? Ma lei dice che una legge è una legge di riforma, cioè riforma vuol dire che in qualche modo trasforma la legge presente in quanto è ispirata ad un valore importante, un valore ideale non riconosciuto in quella determinata circostanza. Io faccio l'esempio della legge che ha liberalizzato i manicomi, perché noi diciamo che è stata una riforma, poi una buona o cattiva, ma certamente è stata una riforma, proprio perché è ispirata ad un valore fondamentale quello della libertà, della liberazione, della liberazione anche di coloro che nella storia dell'umanità sono stati considerati come coloro che non potevano essere liberati, che non avevano il diritto di essere liberati, quindi riconoscere a queste persone il diritto di essere liberi come gli altri, questa è una grande… ma ecco, è una trasformazione della società che si ispira ad un valore fondamentale, per questo si può dire che non legge di riforma. Quindi possiamo dire che non è corretto parlare di tramonto delle ideologie, ma soltanto di crisi di determinate ideologie massimalistiche, eccetera, eccetera, però non si può fare la politica senza avere dei grandi ideali davanti a sé. No, non si può, non si può, assolutamente non si può, poi io dico soprattutto i partiti sinistri, i partiti sinistri si distinguono i soldi dai partiti destri dai partiti conservatori, proprio perché volendo trasformare la città, i conservatori sono quelli che vogliono conservare quello che c'è, i partiti sinistri vogliono trasformare, si capisce che per trasformarla bisogna, bisogna, bisogna trovarli in base dei principi, in base dei ideali che giustifichino alla trasformazione, bisogna giustificare la trasformazione. La differenza tra il conservatore e il riformatore è che il conservatore non ha bisogno di giustificare la conservazione, invece colui che vuole riformare la città deve giustificare, deve giustificare perché la vuole, non può giustificarla se non ricorrendo dei grandi principi, e questo è giustizia e libertà. Questo vuol dire anche che l'uomo politico di sinistra deve avere delle qualità ben superiori a quelle del conservatore, il quale deve semplicemente amministrare ciò che c'è? Beh, insomma, adesso non stiamo a sottilizzare su queste differenze. No, io ritengo che il politico di sinistra deve essere in qualche modo ispirato da ideali, mentre il politico di destra basta che sia ispirato da interessi. Ecco la differenza. Senti, professore, a proposito di Machiavelli, Gramsci dice, il limite e l'angustia del Machiavelli consistono solo nell'essere egli stato una persona privata, uno scrittore e non il capo di uno stato o di un esercito, cheppure è una singola persona, ma aventi a sua disposizione le forze di uno stato o di un esercito e non solo eserciti di parole. Ecco, lei si trova rispetto alla politica in una posizione analoga a quella di Machiavelli, anche essendo un senatore a vita. A che cosa pensa che possano servire i suoi eserciti di parole? Io sono piuttosto pessimista sul rapporto fra teorie e pratiche. La politica e la cultura, vuol dire la battaglia politica, l'azione politica e le idee corrono spesso su due piani paralleli che non si incontrano mai, o almeno si incontrano soltanto in rari momenti, che sono i momenti rivoluzionari, i momenti della trasformazione radicale, per cui la cultura, le idee effettivamente influiscono e gli uomini di cultura si impegnano anche politicamente, assumono direttamente delle responsabilità, ma nei momenti, come dire, tranquilli della storia, la politica fa una strada diversa da quella della cultura.